Buongiorno a tutti, ci sentite bene? Mi chiamo Davide Di Croce, Sonia Natale, siamo qui da CMS, dalla control room di CMS, quindi sala di controllo. Io sono ricercatore, sono di Roma, sono ricercatore, ho lavorato con fisica di particelle, adesso lavoro come fisico di acceleratore e in specifico ho lavorato qui per CMS durante sette anni, quindi penso di darvi qualche curiosità di questo esperimento. Sonia? Io anche vengo da Roma e quindi ho un background comune, sono anche io fisica delle particelle e sono arrivata qui un po' di tempo fa, diciamo circa vent'anni fa, mettiamola così, per restare due mesi e mezzo e poi invece sono rimasta e ho fatto il mio percorso unitario, finito il mio percorso universitario qui facendo la tesi di laurea, dopodiché ho proseguito un anno al Politecnico di Losanna dove penso Davide sia adesso e poi dopo all'Università di Ginevra per il mio dottorato e specifico questo perché nell'ambito del dottorato ho raggiunto diciamo un esperimento, ho collaborato con un esperimento che mi ha trasformata in fisica delle astroparticelle, non astrofisica, quindi un fisico delle particelle che però non lavora su acceleratori ma con i raggi cosnici e questo esperimento è attualmente sulla stazione spaziale internazionale, probabilmente voi avrete sentito parlare di Luca Parmitano, quindi ho fatto delle riparazioni su, perché sono qui perché in parallelo alla mia attività di ricerca ho sempre dato molto spazio all'attività di comunicazione e divulgazione e in particolare amo venire qui a CMS e ritengo che sia uno dei posti più belli da mostrare, più interessanti per le opportunità che ci vengono fornite e quindi io sarò la guida sotterranea e cercherò attraverso il mio percorso, i miei occhi e le mie emozioni perché continuo ad emozionarmi ogni volta che ci vado di farvi vivere una visita virtuale ma poi pseudo virtuale che voi possiate avere qualche impressione anche voi dall'altra parte. Io penso che a questo punto io posso cominciare a prepararmi quindi lascio la parola a Davide per le spiegazioni generali, qualche volta ci sarà qualche interruzione, Davide lo sa per la comunicazione quindi ci palleggeremo un po' il discorso, va bene? Ti incontro all'entrata? Sì, io come al solito alzo le mani oppure mi vedi lì, capirai che chiedo la parola, insomma siamo un buon team affiatato. Allora buona visione, allora ragazzi vi parlerò un po' di cosa facciamo qui, prima di tutto cosa è CMS, cosa è CERN e che cosa è fisica di particelle. Inizierei prima con cosa è fisica di particelle, noi studiamo gli elementi, componenti elementari dell'universo, detto universo non materia, quando dico materia, antimateria è la stessa famiglia e quindi universo, quindi studiamo due tipi di particelle. Il primo gruppo di particelle noi chiamiamo Fermioni, prende questo nome da un fisico italiano, penso che l'avete conoscete, l'avete già sentito parlare di lui, Enrico Fermi, e i fermioni sono tutte le particelle che compongono la materia o antimateria, quindi particelle che conoscete, elettroni, poi motoronetti, protoni, neutroni, ma non sono elementari, ci sono il quark, e moni, neutrini, sono tutti i fermioni. Poi c'è un altro gruppo di particelle che si chiamano i bosoni e loro sono responsabili per le interazioni. Vi faccio un esempio molto semplice, con l'elettromagnetismo, quando avete due cariche, hanno la stessa carica, si rispingono, o quando hanno la stessa carica, si attraggono. Quello che veramente succede con un fisico di particelle è che esiste un campo, un campo elettromagnetico, e esiste questa terza particella che va da una parte all'altra per passare questa informazione, per creare questo campo. Nel caso dell'elettromagnetismo, questo bosone è il fotone, e quindi è come, adesso è un trend topic in Italia, il tennis, è come se queste due cariche giocassero a tennis, e la pallina è il fotone. E quindi, cosa studiamo? Sono come è fatta la materia, ma come interagiscono queste particelle fra di loro. Solia sta di fronte adesso all'entrata di ECMS, quindi do la parola. Sì, eccomi qua. Avete già visto proprio in pratica la sinergia che abbiamo io e Davide, perché appunto ha riconosciuto subito che sono in uno dei punti cruciali. Allora, dove mi trovo? Allora, mi trovo già in, sono ancora in superficie, ma mi trovo all'entrata di quella che poi sarà la parte sperimentale, ed in particolare mi trovo davanti a questa porta verde, che è il primo accesso per poter entrare nella zona sperimentale. Questa porta viene chiamata pad, è una porta di accesso per le persone e non per il materiale. Vi mostrerò dopo invece la porta per il materiale. Per poter accedere facciamo tre controlli. Uno è un controllo di peso, ovviamente non c'è scritto il peso, però il sistema controlla che è una persona quella che sta entrando. Poi dopodiché non siamo autorizzati a portare materiale, quindi ci sono dei raggi infrarossi che controllano che non stiamo portando per esempio uno zaino con del materiale. E terza cosa, il controllo dell'iride che viene fatto attraverso questa macchinetta, che vedete adesso in questo momento. E questo è un controllo personale, cioè la mia identità è registrata nel database del CERN e quindi vengo riconosciuta e se c'è stata appunto una richiesta di accesso positiva, io sono autorizzata a poter entrare. Vi faccio vedere come funziona e poi dopo lo farà anche, devo dirvi che io sono da questa parte diciamo della webcam, ma dall'altra parte ho una valida collaboratrice che è Noemi e che poi vi mostrerò quando entrerà senza di lei non si può fare nulla, quindi io mi muovo ma ho una buona direzione dietro le quinte. Allora, mi faccio riconoscere attraverso il mio dosimetro personale, eccolo qua, la porta si apre ed io entro dentro. Sono entrata dentro, adesso aspetto che si chiuda la porta e dopodiché mi giro e faccio la lettura, quindi una foto di fatto dei miei occhi dell'iride che è depositata e sono passata, il sistema mi ha fatto entrare. Adesso la stessa cosa la farà Noemi, ovviamente lei porta da webcam e quindi ci vuole un po' di esperienza a poter entrare, ma lei è bravissima, riesce a farlo. Io qualche volta quando lo faccio ci sono vari, diciamo devo ripetere l'operazione a volte. Adesso vi farà vedere cosa si vede nella lettura dell'iride. Ecco qua, è passata e quindi ora entriamo nell'altra zona, siamo sempre comunque in superficie. Qualora voi doveste venire qui in visita di persona, si viene proprio in questo posto dove c'è l'accesso con l'ascensore. Ora qui abbiamo altre porte di accesso, come vedete ce ne sono un altro paio per poter entrare, questa è una zona di lavoro ovviamente e poi da questa parte invece abbiamo, intanto scusate chiamo l'ascensore così guadagniamo tempo, e questa invece è la porta di accesso del materiale ed è, ve lo preannuncio, la porta da cui facciamo entrare i visitatori, perché chiaramente i visitatori non sono registrati nel database e quindi non è possibile farli entrare attraverso le porte verdi, a parte che uno a uno sarebbe lunghissimo, quindi usiamo questa porta del materiale per far entrare i nostri gruppi. Tenete conto che c'è una regola di sicurezza che è quella che ogni guida, la chiamiamo, ogni persona che accompagna può al massimo avere 12 persone da accompagnare, quindi i gruppi si muovono in unità di 12 e questa è una regola di sicurezza perché qualora ci fossero degli allarmi, bisogna uscire fuori, evacuare eccetera così, allora diciamo che il controllo è su 12 persone. Siamo quasi, ecco l'ascensore, faccio vedere un grande ascensore, noi entriamo dentro tra un po', Davide perderemo la linea, però noi ci mettiamo qui a mostrare il livello e andremo a circa meno 90 metri, quindi io faccio partire il livello che chiamiamo meno 2, lo prenoto e siamo pronti per scendere. Davide ti do la parola e la riprendo sotto. Ok. Ciao di nuovo ragazzi, ragazze, 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 allora vi ho parlato un po' di fisica di Marcella, adesso vorrei dare due parole di cosa facciamo qui al CMS, che cosa è? CMS è uno degli esperimenti del LHC, Large Hadron Collider, il grande collisore di adroni, adroni sono tutte le particelle che sono fatte di quark, tra l'altro, e perché si fa, perché si studia? Quindi vogliamo studiare queste particelle, noi le collidiamo ad alta energia, perché alta energia? C'è quella formula di Albert Einstein, quando l'energia è più grande, è uguale a mc quadrato, c'è una più grande probabilità di produrre nuove particelle con massa più grande, quindi ha interesse di avere energie più alte. Quindi facciamo le collisioni, sono quattro punti di collisione in questo LHC, e LHC tra l'altro è il più grande acceleratore del mondo, anche il più potente, con le più alte energie, le particelle arrivano a 99.999969, la velocità della luce, il percento della velocità della luce, vengono scontrate, e qui abbiamo le collisioni. Però dopo le collisioni che cosa facciamo? Abbiamo bisogno di ricostruire quello che è successo, e quindi si costruiscono questi grandi rivelatori, dove c'è lo sperimento, in questi punti di collisioni, e ricostruisciamo tutto quello che è successo, e quindi per ricostruire abbiamo bisogno di differenti tipi di rivelatori. Per capire cosa è un rivelatore faccio un esempio, la vostra camera fotografica, il vostro cellulare è un rivelatore, rivela i fotoni, queste sono le particelle di luce, anche il responsabile del campo elettromagnetico, come avevo detto prima. Che cosa fa questa camera fotografica? Misura l'energia, quindi il colore, la frequenza di questi fotoni, e avete il vostro colore in ogni pixel, e avete la vostra immagine. Ovviamente qui abbiamo bisogno di ricostruire molto più tipi di particelle, non solamente i fotoni, e per questo abbiamo differenti tipi di rivelatori. Abbiamo un primo... Ah, allora do la parola a Sonia. Sì, ti interrompo così poi dopo puoi parlare di nuovo e non ti interrompo più, perché sono arrivata effettivamente a meno 87,9... No, scusate, 89,7 metri, quasi 90 metri. Come vi ho detto ci sono tre livelli, abbiamo il più basso che è meno 100, in realtà andiamo anche un pochino più sotto, perché c'è dell'elettronica sotto il meno 100, dove è appoggiato proprio il pavimento dove è appoggiato il rivelatore, poi abbiamo un livello intermedio che è quello dove sono io, e poi un altro livello superiore che ha circa meno 80 metri. Noi andiamo a livello intermedio perché anche se faremo tutto il giro intorno al rivelatore, è il punto di accesso alla caverna, non solo quando si viene in visita ufficiale, ma anche perché è il più bello da vedere, perché è proprio a metà della posizione e si riesce a vedere bene il rivelatore. Ora, dove mi trovo io? Io mi trovo effettivamente di fronte alla porta dell'ascensore, ho fatto pochissimi metri, e perché sono ancora qui? Perché questa è una zona sicura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la vera zona sperimentale, da cui bisogna eventualmente muoversi se ci fosse un allarme, è esattamente questa zona qui, che è protetta da questa porta ignifuga. E perché questa zona è sicura? Perché c'è una sovrapressurizzazione, quindi l'aria viene pompata verso l'esterno, e di conseguenza se c'è produzione di fumo, perché abbiamo elettronica, abbiamo gas, quindi se c'è produzione di fumo oppure, non so, perdite di gas, fughe di gas, ci può essere. Cosa intendo per gas? In realtà abbiamo gas liquido, quindi tipo l'elio liquido, l'azolto liquido e altri tipi di gas, che poi però nel momento in cui si riscaldano perché vanno a temperatura ambiente, noi li teniamo a temperatura molto bassa, chiaramente li ridiventano gas, occupano la posizione dell'ossigeno e quindi non riusciamo più a respirare. Poi a seconda del gas si possono mettere e depositare verso il basso, verso l'alto, dipende. Allora, la cosa migliore è quella di uscire dalla zona, diciamo, di pericolo e ci si mette qua. Se si può prendere l'ascensore, perché non c'è nessun problema di elettricità, si sale su attraverso l'ascensore, altrimenti se ci dovesse essere, anche se è garantito che l'ascensore dovrebbe funzionare in tutte le condizioni, se l'ascensore dovesse bloccarsi, possiamo tranquillamente aspettare qua che arrivino i pompieri che vengono automaticamente avvertiti dai sistemi di controllo e quindi sanno perfettamente che ci sono delle persone. Poi, come vedete qui, abbiamo tutto un sistema di telefono, possibilità di far partire l'allarme, un estintore, la cassetta medica. Ogni persona che fa il training, che viene, diciamo così, preparata per poter scendere qui, deve saper, almeno in maniera minima, utilizzare questi oggetti. Quindi io penso che adesso possiamo entrare direttamente nella zona sperimentale, vi faccio vedere qualcosa e poi dopo Davide magari ci rivediamo nella sala dell'elettronica, dove io parlerò poco, perché è molto rumorosa per me, non per voi, ma per me è molto rumorosa. Ecco, allora, da questa parte, forse non so, vediamo se Noemi mi aiuta, riusciamo a vedere un corridoio, non so se riuscite a vedere, attraverso la grata, si vede una zona un po' più chiara, effettivamente non è altro che un grande corridoio che connette la zona dove sono io alla zona dove c'è l'esperimento. Ora, siamo italiani, usiamo le mani, anche se poi non è vero che solo noi italiani usiamo le mani. Allora, la situazione è la seguente, poi so che c'è una bellissima mappa che sia Davide che Zoltan, che è la persona anche che ci aiuta, l'organizzatore di questa visita, può proiettare, ma di fatto noi abbiamo due caverne, ok? Una che viene chiamata, scusate, mi metto così, una che viene chiamata la caverna di servizio, che è questa qui alla mia sinistra, e un'altra che viene chiamata la caverna sperimentale. Sono posizionate in questa maniera, ok? Io mi trovo adesso qui, al centro della caverna di servizio, e accanto, proprio dall'altro lato, c'è la caverna sperimentale, dove c'è l'esperimento, e dove io farò il giro, e accederò. Ci sono due accessi, uno è questo qui, che però è a livello inferiore, e che io non userò, e ce n'è un altro invece, a questo livello, che però mi chiede di fare tutto il giro. Mi sposto un attimo, perché abbiamo delle persone che devono passare, qui ci sono lavori, una zona di lavoro ovviamente, possiamo anche vederli, eccoli qua, stanno lavorando ovviamente, e quindi, a cosa serve la caverna di servizio? È di fatto una caverna, uno spazio molto grande, come vedete, dove vengono posizionate di fatto l'elettronica, e tutti i contenitori per esempio di gas, tutta l'alimentazione, che serve per poter far funzionare l'esperimento, mentre la caverna dell'esperimento, è ovviamente quella in cui l'esperimento stesso, che poi Davide vi descriverà in dettaglio, con delle figure, e io vi farò vedere invece di persona, diciamo così, è la caverna appunto dove è allocato l'esperimento. Ora, attraverso quella porta, che viene aperta in questo momento, abbiamo una delle sale che chiamiamo counting room, cioè le sale di conteggio, le sale dove c'è dell'elettronica, l'idea è che c'è l'esperimento, dove passano le particelle, sull'esperimento c'è già dell'elettronica, che si chiama l'elettronica di front end, cioè proprio attaccata agli strumenti, ma attraverso poi dei cavi classici o delle fibre ottiche, queste informazioni, questi segnali elettrici, elettronici, luminosi, vengono passati in queste camere di conteggio, dove avviene il primo filtraggio, diciamo così, vengono selezionate alcune informazioni, perché non possiamo conservare tutto quello che viene registrato all'interno, non abbiamo abbastanza spazio, e poi non ci interessa tutto quanto. Questo non è solo il primo livello di filtro, ma ce n'è un altro anche in superficie, quindi abbiamo, poi Davide vi parlerà del livello 1, il livello 2 di trigger, vengono chiamati di trigger. Io in questa sala parlerò pochissimo, ma entrerò nei corridoi, cosa che non è permessa ai visitatori, ma io posso farlo, e vi mostrerò i vari, le varie connessioni, i vari arrangiamenti, diciamo, dei cavi, che sono presenti in questa camera. Quindi, Davide, ti lascio seguirmi, e poi eventualmente, se c'è qualche cosa da aggiungere, mentre tu stai parlando, la aggiungerò, diciamo così, al volo. Va bene? Davide? Scusa, non ho acceso il... Ah, sì. Ok, quindi entro nell'accounting room, tu mi segui, io parlo poco, perché è rumoroso, e nel caso c'è qualche piccola cosa da dire, ti interrompo, va bene? Ok, io continuerei parlando di come, come è fatto l'HC, ma posso pure dirvi, pure qualche parola, di questa sala che state vedendo, dove c'è l'elettronica, dove si, ecco, cosa c'è scritto? Ah, non si può passare, a questo punto però, voi potete. Esatto, questo è il, quello che volevo dire, è vero che è una visita virtuale, ma, chi ci guarda, guadagna qualcosa, non potrebbe farlo se fosse qua, mentre qui possiamo farlo, ti faccio continuare, prego. E quindi, come stava dicendo Sonia, questa, questa elettronica serve per filtrare i dati, e prendere solamente i dati più interessanti, e quindi, quando le particelle sono identificate, con questa elettronica, e hanno una signature, una quantità di particelle che vogliamo, e con un'energia che vogliamo, quindi, particelle con poca energia, di solito noi le scartiamo, o quando abbiamo molto, molte particelle in uno stesso evento, le proviamo a scartare, perché non possiamo, non abbiamo confidenza in fare un'analisi con questa tipologia di eventi. Sonia ci sta facendo vedere tutto il cablage di questa elettronica. Sì, se posso aggiungere, io trovo, allora, al di là appunto dell'utilizzo di questo, di questi cavi, che stava, appunto, che Davide stava dicendo, di fatto, ogni segnale che ci arriva, ci permette di ricostruire quella che chiamiamo, quella che possiamo poi identificare come la carta di identità delle particelle che poi ci servono per ricostruire i vari processi, io mi perdo nella bellezza del cablaggio, non so se Davide è d'accordo con me, ma anche cablare è bello. Volevo invitare un attimo Noemi a vedere, a mostrare come sono ben sistemati questi cavi, ma c'è una parete che io ho veramente, considero quasi la monna Lisa del cablaggio, se posso, se mi seguite. Ed è questa parete, che è questa qui, che è legata a uno dei rivelatori che poi vi mostrerà, vi farà vedere Davide, che sono le camere a Muoni, e di fatto queste non sono fibre ottiche, sono cavi normali, diciamo così, sono ad alta tensione, ma guardate la regolarità, guardate la perfezione, ogni cavo ha la sua propria lunghezza, la curvatura del cavo deve essere rispettata, non si possono tenere cavi tirati, perché altrimenti la connessione non è buona, e diciamo che richiedono, ci sono ore e ore e ore di paziente lavoro, non solo per capire quale cavo deve essere connesso, in quale posizione, perché questo venne fatto prima, ma anche poi il cablaggio vero e proprio, e poi il test, che il modulo funzioni, quindi veramente questo è, a mio avviso, una specie di riassunto di quello che può essere anche un lavoro che può sembrare che è faticoso, ma che è faticoso non è effettivamente, perché poi alla fine uno è soddisfatto quando tutto funziona, che ne pensi Davide? Sì, sì, hai ragione. Sì, uno dice, ok, ho fatto il mio lavoro alla fine, no? Sì. Ok, stiamo andando, stiamo procedendo qui, magari qua ci fermiamo un attimo dopo, davanti a questa porta rossa, che conduce al tunnel dell'acceleratore, ma che noi non usiamo per andare al tunnel, è semplicemente, come vedete, una seconda via d'uscita, perché c'è un altro ascensore, e quindi ci permette di poter accedere al secondo ascensore, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, anche se la strada che ho fatto io è quella di preferenza. Allora, io adesso procedo verso la caverna, Davide, ti lascio un po' il tempo magari di descrivere il rivelatore, e poi lo riprendo la linea da dentro, va bene? Sì, perfetto. Allora, adesso farò vedere un'immagine dove abbiamo il nostro rivelatore, lo potete vedere qui a destra. Allora, come è fatto il CMS? Abbiamo una famiglia di rivelatore che si chiama tracciatore, la parte più interna, e questo rivelatore identifica tutte le particelle che hanno carica e le marca le sue posizioni. Ovviamente quando la particella passa e come loro sanno in strati, voi avrete misurato una traccia, per questo il nome tracciatore. Una cosa importante è che questo rivelatore CMS ha un magnete di 4 Tesla, è un magnete superconduttore, e quindi se la particella è caricata, che è quello che può tracciare, significa che farà delle curvature. Se la particella è caricata positivamente, farà la curva in una direzione, quindi la sua antiparticella, quindi possiamo pure identificare se è una particella o una particella, per la curvatura, quindi quella negativa farà la curva nell'opposta direzione. Poi abbiamo altri due sistemi, uno si chiama calorimetro, e il calorimetro è molto importante perché misura l'energia delle particelle, e abbiamo due subgruppi di calorimetri, e l'importanza qui è del materiale che compone questo calorimetro, e il primo si chiama elettron calorimetro, e quindi lui ferma tutte le particelle che sono elettroni e fotoni, e quindi sul prossimo calorimetro noi non le aspettiamo. E il secondo gruppo di calorimetri è quello adronico, e lui è responsabile per fermare tutte le particelle, tutti gli adroni, quindi tutte le particelle fatte con quack. Infine, lo vediamo qui, questo giallo, e poi infine abbiamo queste camere muoniche, queste gialle rosse, un po' romaniste, no scherzo, che sono rivelatori per i muoni, sono le uniche particelle che sopravvivono ai calorimetri e che possono essere tracciate. Ovviamente ci sono anche i neutrini, però questi non vengono misurati direttamente. Do una parola a Sonia, che ci sta facendo vedere l'entrata della caverna di CMS. Sì, eccomi qui. Allora, dunque, sono in realtà a metà, perché ho dovuto passare, come vedete, quest'altra porta, che funziona esattamente come la verde che ho passato prima, ha un colore diverso, ecco Noemi sta tornando, ha un colore diverso perché siamo più vicini alla caverna, e come vedete di fatto qui c'è un corridoio. Ecco, è successo a Noemi quello che a volte succede a me, che il sistema ci rifiuta l'entrata e quindi perché facciamo troppo veloce e quindi deve ricontrollare tutto quanto per poter entrare. Adesso lei passa. Aspettiamo un attimo per vedere il sistema. Sta facendo, eccolo qua, riconoscimento dell'iride e come vedete da quest'altro lato c'è invece questo corridoio che porta proprio alla porta di entrata nella caverna sperimentale. Quindi questo muro in realtà più un altro pezzo che è oltre questa porta costituiscono una divisione di un muro di sette metri di cemento armato che separa la caverna di servizio dove ero prima dalla caverna sperimentale e questo chiaramente serve per protezione quando si accede alla caverna di servizio durante le collisioni che avvengono nella caverna sperimentale. Che cosa intendo? questa è una particolarità di CMS è l'unico esperimento tra i quattro presenti sull'LHC sull'acceleratore del CERN che autorizza il personale ma ancor più i visitatori a poter scendere a questo livello di meno 90 metri anche quando ci sono le collisioni e questo perché questo perché effettivamente c'è una protezione tra le due zone non che gli altri non li abbiano ma c'è anche la via di uscita che vi mostramo prima la porta rossa che consente in caso di evacuazione di poterla usare senza dover passare per la caverna sperimentale questa è una particolarità tipica di CMS quindi se volete venire qualsiasi momento dell'anno è possibile qual è la vera differenza è che se venite quando ci sono le collisioni nel posto dove sono io adesso non si può accedere ci si ferma prima di questa porta gialla e però il campo magnetico il magnete è acceso quindi si può sperimentare si può risentire il campo magnetico residuo che viene dalla caverna in questo momento invece non ci sono collisioni quindi entriamo dentro ma non c'è il campo magnetico quindi o l'uno o l'altro allora seguitemi entriamo nella caverna faremo un giro intorno al rivelatore la porta per la solita sovra pressurizzazione è molto pesante ok eccola qua ed entriamo nella caverna dove abbiamo l'esperimento che di fatto è pronto per poter avere le collisioni perché è pronto eccolo qui l'esperimento mi metto davanti per darvi un po' la proporzione io sono un metro e sessanta all'incirca quindi va bene a parte il casco vedete la barriera qui ne vedete vedete quella struttura verde là davanti metà è praticamente l'altezza della barriera dove sono io quindi potete riconoscere più o meno la proporzione poi dopo andremo sotto quindi vedrete esattamente quanto l'esperimento è un palazzo di cinque piani di fatto questo esperimento quello che mi interessava mostrarvi è che tutta questa struttura che vedete qui questa arancione qua è di fatto già la chiusura del tubo dei fasci che cosa intendo c'è un tubo dei fasci che entra proprio dentro l'esperimento così come una specie di stecchino una cannuccia che entra dentro un kebab e adesso tutta questa zona che normalmente quando l'esperimento è aperto si vede questa zona qui arancione è tutta aperta è una specie di farfalla che si apre adesso è stata chiusa e quindi è pronto per poter per partire per le collisioni che avverranno abbastanza presto proseguo da questa parte e vi faccio notare queste vedete queste strutture verdi ognuna di queste strutture è una la chiamiamo in italiano ruota di fatto l'esperimento è stato costruito tutto in superficie totalmente e pesa 14.000 tonnellate quindi è molto pesante una tonnellata è una city car praticamente una macchina tipo una 500 se volete quindi immaginate 14.500 uno sopra l'altra ognuna di queste fette almeno queste laterali pesano circa 2.000 tonnellate e sono state scese con una gru qui in caverna quindi l'esperimento è costruito a fette è modulare veramente noi siamo italiani forse molti di voi hanno presente la girella quel dolcetto che ovviamente viene da un cilindro tagliato a fette ecco è stato proprio costruito così quindi il design dell'esperimento è qualcosa di modulare che abbiamo ricostituito rimesso insieme quando l'abbiamo sceso dalla superficie e questo ha un vantaggio che quando ci si lavora non adesso perché è tutto chiuso ma queste fette si possono allargare singolarmente il che vuol dire che l'accesso nelle zone più interne è facilitato qual è il vantaggio rispetto agli altri esperimenti ecco la filosofia è un po' diversa gli elementi sono gli stessi ma c'è stato più un assemblaggio di un pezzo sopra l'altro quindi se io voglio accedere al pezzo interno devo rimuovere prima quello che c'è davanti qui invece è un po' come quelle sapete quel sistema che si usa nelle biblioteche in cui gli scappali si aprono a organetto ecco esattamente lo stesso io adesso proseguo qua Davide faccio vedere più o meno questo lato ma poi nel salire su ti do di nuovo la parola va bene? mi segui? ok sì perfetto perfetto allora volevo solo far vedere l'esperimento è lungo all'incirca diciamo dipende da cosa consideriamo dai 21 ai 28 metri se includiamo anche le parti arancioni dove ci sono dei rivelatori ma se io considero il corpo direi che più o meno e come vedete faccio attenzione ad alcuni oggetti che sono presenti diciamo che più o meno a questa altezza mi trovo al centro dell'esperimento il che vuol dire che proprio in questo punto qui all'interno che i due fasci si uniscono e fanno le collisioni proprio in questo livello queste collisioni una volta o meglio questi due fasci che si incrociano a un certo punto scontreranno alcuni dei protoni che sono presenti e tutte le particelle verranno trasmesse in varie direzioni e poi attraverseranno come diceva Davide il rivelatore producendo quei segnali diversi per la carta d'identità delle particelle stesse vi faccio vedere l'altro lato e poi siccome devo fare delle scale e non potrò parlare vi lascerò a Davide ecco l'altro lato che vedete con la identica chiusura arancione che è sempre per la parte del tubo dell'LHC questo perché c'è molta radiazione che viene prodotta in questa zona quindi questo è proprio uno schermo oltre che essere una parte rivelatrice allora io Davide ti do la linea e vado su sul tetto di CMS va bene? va bene allora ragazzi quello che vediamo qui spero che mi sentite bene c'è un po' di rumore qua nella sala di controllo ci sono qualche lavori allora può essere un evento e quindi praticamente quello che vediamo qui è una collisione di due pacchi e alcuni di questi i protoni dentro questi pacchi scontrano e vedete il risultato di questa collisione il lavoro di questo di questo di questo rivelatore è identificare le particelle quindi l'importanza di avere vari tipi di rivelatori scusate è di identificare quali sono le particelle per esempio questa linea rossa che vedete lunga sono dei muoni queste 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 barre verdi sono l'energia depositata nei calorimetri e quindi penso che in questo caso sia questo più basso dei fotoni in quelle barre blu già sono del calorimetro adronico vi rifaccio vedere un po' come è la struttura per capire come noi identifichiamo ogni particella per esempio questa linea qua più su è un esempio di un fotone quindi se abbiamo il segnale solamente nel calorimetro elettronico sappiamo che è un fotone se invece è un elettrone lascia un traccio nel tracciatore e deposita l'energia nel calorimetro elettronico poi possiamo avere degli adroni caricati come il protone e questo lascia una traccia nel nel tracciatore e deposita energia nel nel calorimetro adronico invece un neutrone che è anche un adrone come non ha carica non lascerà nessuna traccia nel tracciatore e vediamo la deposizione di carica nel calorimetro adronico e poi abbiamo l'ultima particella che possiamo identificare direttamente che è il muone e quindi lascerà segnale ovunque in tutti i regolatori però anche sull'ultimo e quindi sappiamo quando abbiamo il segnale solo nell'ultimo è un muone poi possiamo ricostruire tutte le altre tipo di particelle per esempio il boson di Higgs come queste altre particelle degandano in queste particelle possiamo ricostruire tutto l'evento penso che Sonia vuoi dire qualcosa sei salita su è una bella vista sono salita su allora dunque innanzitutto vi faccio vedere una cosa vi ho parlato del fatto che l'esperimento è stato sceso dalla superficie da qui forse Noemi ce lo può far vedere un attimo che sposto la porta vi farà vedere esattamente il pozzo o in inglese si chiama shaft da cui l'esperimento è stato calato questi sono praticamente cento metri vedete il buco in superficie e quindi ogni ruota è stata scesa da questo buco immaginate ci sono voluti allora per i pezzi laterali otto ore mentre per i pezzi del pezzo centrale che contiene il magnete dodici ore per poter scendere quindi in maniera molto lenta per evitare delle oscillazioni a destra e sinistra perché lo spazio tra e ve lo faccio vedere aspettate che torno ad aiutare Noemi lo spazio tra l'esperimento e la parete è esattamente quello che vedete qua cioè vedete qua questo spazio tra questa barriera e quest'altra questo era lo spazio lasciato per poter scendere quindi capite bene che fare un'oscillazione avrebbe determinato il danneggiamento delle varie ruote c'era anche una struttura che forse possiamo mostrare rossa red questi qua sono dei sistemi di sicurezza di fatto sono dei distributori se volete di come si dice schiuma se volete di CO2 praticamente è il materiale che viene formato quando usate un estintore ok? fate la schiuma quella schiuma di CO2 che serve per combattere nel caso ci fosse un incendio per spegnere un incendio qui in caverna ora vi dico subito che ovviamente abbiamo tanti sistemi che vengono attivati prima di questi di questi bocchettoni chiamiamoli così perché questi bocchettoni emettono così tanta schiuma da coprire interamente questo esperimento che è alto come un palazzo di cinque piani qual è il risultato il risultato che se si attiva questo sistema l'esperimento è da buttare perché questa schiuma entra in tutti gli interstizi e non è possibile pulirlo quindi cosa facciamo noi è un sistema che viene controllato periodicamente che funziona ma incrociamo le dita così di non doverlo mai usare perché sappiamo che nel momento in cui lo usiamo chiaramente l'esperimento è finito diventa un pezzo da museo adesso vi porto in una zona ancora più nascosta è un po' particolare per arrivarci seguitemi e saliamo sul tetto di CMS come vedete sono tutte zone che non dovrebbero diciamo che sono permesse ma soltanto come accesso temporaneo per noi ed ecco qua sono nella parte superiore dell'esperimento qualcosa che se venite qui non è autorizzato per i visitatori devo dire la verità è autorizzato non è autorizzato nemmeno per tutte le persone che lavorano qui in CMS noi abbiamo dei permessi speciali per poter arrivare qui quindi vedete per esempio questa banda gialla che non è altro che una gru viene chiamata carro ponte che serve per il trasporto di materiale qui in caverna che può passare sopra il tetto dell'esperimento vedete tutti i bocchettoni rossi intorno il sistema di aereazione che sono questi grandi tubi e tornando indietro vedete un altro carro ponte e la parte che vi ho fatto vedere prima del buco qui sopra veramente è come se fossi quasi a cavallo dell'esperimento il tetto di CMS adesso dal tetto scendiamo invece a vedere i piedi e lascio di nuovo la parola a Davide per continuare la sua descrizione a dopo allora ragazzi per ritornare vorrei farvi vedere un'altra immagine per capire la complessità di queste collisioni che succedono qui a CMS questa è una ricostruzione di tutte le collisioni in un singolo passaggio di questi pacchetti di protoni quindi potete vedere qua penso che ci sia circa un centinaio di collisioni non sono sicuro in questo evento perché è intagato però dipendente dal periodo dell'anno in media noi abbiamo 50-60 però abbiamo certi noi chiamiamo run speciali dove possono succedere circa di 100 collisioni e quindi è importantissimo che il nostro rivelatore identifichi tutte le particelle per poter ricostruire da dove proviene l'evento quale è stata la collisione che ha dove vengono queste particelle di questo evento Sonia vorresti dire qualcosa Davide ci sei sì Noemi mi ha portato in un'altra zona e io stavo per andare giù mi ha portato a farvi vedere effettivamente la parte di chiusura arancione di cui vi parlavo che si vede da questa posizione molto bene in realtà vedete anche già tutta quanta la parte inferiore dove tra un pochino andremo vi invito a guardare quelle strutture piatte arancioni tipo piedi se volete perché dopo ci avvicineremo e vedrete adesso sembrano piccole in realtà quanto sono grandi questa parte qui avete praticamente la visione siamo un po' più in alto della metà dell'esperimento e vedete anche che la chiusura di questa di questa di questa zona qua questa chiusura qua è tutta elettronica nel senso che ehm se non sono eh cioè quello che si chiama un interlock di fatto cioè tutto deve essere chiuso in una certa maniera per cui l'LHC può partire se c'è qualcosa che non funziona in una di queste chiusure di qualsiasi dei quattro esperimenti l'LHC non si attiva il fascio non si attiva quindi questo è un sistema di sicurezza che dice che tutto è stato chiuso è un po' come quando uno mette l'allarme a casa prima dopo che è uscito è tutto stato chiuso e si può partire con le collisioni eh mi è capitato di sentir dire da qualche persona ma quando ci sono le collisioni eh abbiamo sentito che c'è gente nella caverna c'è qualcuno che è stato colpito dal fascio assolutamente no nel senso che non c'è motivo di stare in caverna come vi stava dicendo Davide le particelle non è che le vediamo con gli occhi abbiamo bisogno di un prolungamento dei nostri occhi e solo attraverso i segnali elettrici ed elettronici riusciamo a capire cosa è successo dentro l'essere in caverna non ha assolutamente senso durante le collisioni in più le luci vengono spente perché le luci cosa sono? Cos'è la luce? sono fotoni se io voglio rivelare i fotoni che sono là dentro evito di produrre dei fotoni con le lampade quindi tutto è spento tutto è chiuso e e si sta fuori quindi le leggende che vengono come dire ogni tanto quelle che chiamiamo adesso non si chiamano più leggende si chiamano fake news ehm fate attenzione siate critici perché effettivamente non raccontano quella che è la realtà la caverna quando ci sono collisioni è totalmente chiusa l'unica cosa speciale che vi dicevo è che CMS permette di scendere eh a meno diciamo a meno 90 ma di restare fuori da questa caverna perché qui non si accede se ci sono collisioni penso se non avete domande che adesso io veramente scendo giù alla parte e ci vediamo con la visione dal basso dell'esperimento vedrete quanto è grande andiamo ciao Davide ciao e allora ragazzi vorrei chiedere se avete qualche domanda in quanto qualche domanda possiamo rispondere qualche domanda durante questo periodo tutto chiaro nessuna curiosità ho visto una domanda Silvia prima question abbiamo una domanda sì avevo una domanda qual è il rapporto tra la teoria quindi la parte teorica di tutti i calcoli precedenti e poi le conferme sperimentali se capita molto spesso che ci sono delle conferme oppure se tutta la parte teorica e i calcoli vengono smentiti dagli esperimenti com'è questa relazione ok sì una bella domanda allora la parte teorica ti aspetti un numero di eventi che possono vederli da quelle collisioni quindi quello che fai è un conteggio di quello che vedi dagli esperimenti quindi questo è come funziona la parte di un fisico sperimentale conta quello che si aspetta ovviamente quello che non se vedi più nuovi eventi quindi vedresti qualcosa che non ti aspetti quindi c'è da studiare un po' più la parte teorica che non è il caso ora quindi per esempio nel Higgs boson ci aspettavamo di vedere tot eventi se vedi tot eventi per dimostrarlo per osservarlo significa che che esiste non so se sono stato chiaro Davide mi senti? tu sei stato molto diplomatico e gentile io io come si dice dalla mia vecchiaia qui sono un po' più diretta allora diciamo che è l'esperienza che conferma la teoria sono stata un po' troppo diretta nel senso che ovviamente teorici sviluppano i calcoli che sono in base alle conoscenze che abbiamo chiaramente c'è il supporto della matematica le regole matematiche che ci confortano e che ci portano a quelle che sono le predizioni di cui parlava Davide ciò non toglie che qualsiasi sia l'ipotesi iniziale come anche il bosone di Higgs predetto nel 1964 di fatto è solo l'esperimento che convalida se quell'ipotesi è giusta oppure no è l'esperimento che sceglie quale ipotesi è quella da seguire quindi quale teoria è quella valida oppure no e non perché io ho fatto fisica teorica anche quindi nel senso mi è piaciuta però sono una fisica sperimentale come penso anche Davide non è perché gli sperimentali hanno in mano come dire la decisione finale semplicemente perché la natura con il suo manifestarsi attraverso il fenomeno ci fa capire quale delle teorie che erano state proposte è quella che spiega il fenomeno che osserviamo e di conseguenza qual è il processo matematico da seguire per poter fare ulteriori teorie ulteriori predizioni poi chiaramente a volte ci piace ci sono delle volte che non cerchiamo niente e nella nell'esperimento escono fuori cose strane per cui si torna indietro e si dice correggi la teoria però direi che tutto è in mano alla natura cioè tutto è in mano all'esperimento non so se tu la vedi così Davide in questa maniera sì sì forse sono stata un po' troppo diretta no no l'osservazione è l'unica cosa che ci può comprovare una teoria quindi hai un modello fisico un modello matematico e per provarlo lo devi osservare quello che ti aspetti per esempio cioè questa ci sono casi che l'esperimento ti porta a una nuova teoria quindi non avevi mai osservato un fenomeno e subito dopo do la parola a Matilda che ha chiesto la parola però quindi cambi inventi una nuova teoria per spiegare questo 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 fenomeno ma ci sono stati casi nella fisica di particelle che avevi un modello dal modello matematico ti aspetti di osservare un fenomeno e ci sono stati vari casi come per esempio Carlo Rubbia no no ma pure più elementare il positrone si aspettava l'antiparticella è stata scoperta solamente cinque anni dopo c'è la forza forte con Yukawa e ovviamente Rubbia WZ quindi si parlavo di Rubbia perché era italiano capito solamente per questo e ovviamente Higgs il bosone di Higgs è stato anche se con il bosone di Higgs lo cercavamo ma non sapevamo esattamente dove cercarlo era un po' più complicatino però insomma ci sono riusciti quello di Rubbia come dicevi tu gli altri esempi invece sono stati più diretti tant'è che infatti diciamo così ci è voluto meno tempo se vogliamo il pione no il pione è rimasto dieci anni perché è stato veramente uno sperimento in Roma che al primo momento pensavano che il muone fosse il pione quindi responsabile per l'interazione forte vabbè do la parola su Kilda se non cominciamo allora io qui ho sulla mia mano innanzitutto penso che noi vi abbia già fatto vedere la dimensione di questo oggetto vi ricordate il famoso piede di cui vi parlavo il palazzo di cinque piani guardate adesso mi avvicino e vi faccio vedere che cosa è questa cosa tenete conto che non è l'esperimento più grande che c'è al CERN c'è Atlas che è ancora più grande però il peso è la metà di questo ecco io sono vicina adesso al piede arancione di cui vi parlavo ed ecco qua la dimensione cioè questa sono io questo fa un metro e sessanta all'incirca ora due cose interessanti da dire questi piedi sono i protagonisti dell'apertura e della chiusura dell'esperimento vi ho detto che è tipo un organetto come si fa ad aprirlo e chiuderlo si usano allora sotto a questi piedi viene messo del grasso e poi vedete questi tubi qua in questi tubi viene pompata aria compressa qua e quindi di fatto si alleggerisce un po' la fetta non è che la si solleva del tutto ma la si alleggerisce un po' è come quando avete una persona che non può camminare e la sostenete un po' sotto sotto alle ascelle ok? e poi cosa si fanno? si collegano dei cavi ve li faccio vedere tra un attimo che tirano la fetta ovviamente in parallelo perché anche dall'altro lato abbiamo lo stesso sistema e si trascina l'esperimento per poterlo aprire nel momento in cui è aperto lo volete richiudere come è successo qua abbiamo degli altri cavi dall'altro lato che tirano in senso opposto diciamo così non si spinge mai l'oggetto ma lo si tira sempre o in senso o nell'altro adesso con questi elementi costosi questi sono dei rivelatori estremamente costosi di campo magnetico come vedete lo so che voi ne fate un altro utilizzo ma io li uso per il campo magnetico proviamo a vedere se questo oggetto qui che è una parte del rivelatore ha un po' di campo magnetico residuo perché adesso non c'è quindi ed eccolo qua non so se riuscite a vedere vedete dopodiché io so già che Noemi Davide Zoltan sanno che io mi perdo in questi giochini I get lost here perché mi piace giocare con queste cose per me questo qua è veramente la fisica come vedete l'espressione della fisica sperimentale cioè vedete proprio cosa succede quando ho un oggetto magnetizzato e qualcosa come vedete sto facendo un oscillatore in questo momento chiaramente potrei attaccare altre graffette qui posso provarci ma immagino che se il peso è troppo grande rispetto alla forza magnetica esercitata da questa da questo oggetto magnetizzato a un certo punto dovrebbe cadere vediamo un po' I think we lost you completely so we can go off for a coffee with Davide here no this is what I was saying that you Noemi you Noemi and Davide you know very well that I get lost when I'm doing this you know yeah exactly but this is so spectacular so nice voglio vedere soltanto se funziona anche questo vediamo un po' qui no qui non c'è qui non vediamo niente non vedo magnetizzazione come vedete vediamo qua no si mettono soltanto in questa maniera qualche volta stanno anche dritte stavolta no stanno soltanto così eccole qua questa è una cosa che facciamo anche fuori dalla caverna nel posto dove vi ho detto che voi potete vedete questo è un pendolo ok non sto facendo niente di particolare ragazzi queste non so se ci sono adesso ragazzi professori eccetera ma questa è fisica cioè questa è per mostrare che ovviamente la fisica ha la sua traduzione in formule matematiche questo è ovvio e la razionalizzazione ma questa è la fisica è il fenomeno che avviene in atto si direbbe eh ok eccola qua la fisica eh va bene torno sulla terra I come back on the earth eh volevo solo farvi vedere e poi ridò la parola faccio un giro e dirò la parola a Davide eh i cavi che tirano eccoli qua ora qua sono tutti quanti messi per benino ma sono questi cavi qua vi metto una mano per farvi vedere non riesco nemmeno a spostarli in realtà eh yes I know sono anche sporchi oltretutto appunto viene detto eccolo qua ah ecco qua li vedete qua guardate con la mia mano vi rendete conto questi cavi qua sono quelli che vengono attaccati all'esperimento da quella parte e che attraverso questo sistema questo verricello tirano in questo senso per poter allargare l'esperimento oppure ne abbiamo altri dall'altro lato che di qua che tirano in senso contrario ah this is nice facciamo vedere il buco da sotto vedete adesso sono veramente a cento metri di profondità si vede benissimo qualche volta facciamo le virtual visit perché vedete quel buco lì lì quando ci sono le collisioni viene chiuso tutto c'è un pavimento che chiude e di solito il posto dove adesso si trova Davide diciamo la postazione di Davide sarebbe sopra quel pavimento quindi saremmo in questo momento a una distanza uno sopra l'altro di cento metri sotto terra ecco qui l'altro l'altro verricello where is it da e di qua è coperto ma è qua e ok e sono praticamente dei sistemi che sono messi a metà per poter riconoscete le fette vedete anche qua riconoscete le fette dell'esperimento quindi e sotto qua anche se siamo a meno cento abbiamo dell'altra elettronica quindi in realtà si va anche un po' più sotto come vedete qua c'è dell'altra elettronica che è messa sotto all'esperimento from where we go out there allora io adesso proseguo non so se ci sono delle domande Davide su questa parte c'è una domanda da Mathilde che non ha avuto il tempo di farla ma adesso penso che sia a Portuolo ciao buongiorno a tutti la domanda buongiorno buongiorno la domanda non era specifico su questa diciamo sezione ma c'era vieni entrambi c'era una curiosità da parte del nostro alluno il CERN sta impiegando le sue strutture anche per ricerca sulla sostenibilità non so se l'avete sentita sostenibilità si puoi ripeterla Davide perché io non ho sentito si ha chiesto se facciamo qualche ricerca con sostenibilità per esempio noi stiamo facendo il design di un nuovo acceleratore si chiama ATCC hai detto CERN in generale non specificamente il CMS quindi io vorrei dare questo esempio che è molto bello questo esperimento produrrà molta radiazione sincrotron che cos'è questa radiazione quando hai una particella caricata usi il magnete per curvarla emette molta radiazione e quando in questo futuro futuristico acceleratore avrà molta più energia di questo ora per farvi per avere un'idea questo di ora ha 27 13 tera elettron volts e 27 chilometri il prossimo avrà 91 chilometri e 100 tera elettron volts quindi molto più energetico quindi le particelle produrranno molta più energia di radiazione sincrotron specialmente nel caso di ok non sarà in quell'energia però elettroni positroni emettono molto più radiazione sincrotron quindi ci saranno dei meccanismi di raccogliere questa energia depositata e inviare l'energia elettrica per esempio alle città che stanno sopra allo sperimento che così avranno potranno utilizzare questa energia non gratis perché ovviamente abbiamo bisogno di usare l'energia per raffreddare lo sperimento e fare l'accelerazione però viene riutilizzata questa energia che sarebbe andata persa per riscaldamento delle case principalmente nelle città che stanno vicine all'acceleratore questo è un esempio sì questo è un esempio ma poi per esempio c'è tutta una parte che viene chiamata di spin off se volete dove per esempio ci sono stati progetti ci sono dei pannelli solari sviluppati dal CERN ma anche industrie che collaborano col CERN che sono all'aeroporto di Ginevra con un a basso consumo e comunque come dire tutte le applicazioni che noi sviluppiamo che inventiamo che facciamo tendono ad avere per quanto possibile il minore impatto sull'ambiente il fatto stesso che l'acceleratore è messo a 100 metri di profondità è per avere un impatto ambientale minimo perché l'acceleratore messo in superficie avrebbe voluto dire avere dei problemi con strade case eccetera tenete conto che l'acceleratore non è qui sotto perché è pericoloso quello che vi diceva di cui vi parlava Davide emetterà più radiazione e oltretutto la emette non in tutte le direzioni ma soltanto è un anello sul piano dell'anello ma quando è stato costruito il tunnel dove c'era un acceleratore energia ancora più bassa nel 1989 non è stata fatta la scelta non era sicuramente perché c'era una reazione che avrebbe tra virgolette inquinato o che sarebbe stata pericolosa ma semplicemente per un impatto un minore impatto ambientale un esempio un controesempio è al Fermilab di Chicago a 50-60 km da Chicago c'è un grande laboratorio dove c'è un altro acceleratore questo laboratorio è all'interno di un parco nazionale un po' come il nostro laboratorio del Gran Sasso ma che ovviamente sta sotto la montagna fa altre cose lì l'acceleratore è di fatto in superficie e la preoccupazione maggiore di chi ci lavora è che i bufali non vadano a distruggere le infrastrutture dell'acceleratore ok poi a volte capita anche qua basta un corvo che rubi un pezzo di pane che va a cadere nei trasformatori che alimentano l'LHC per far saltare tutto questo è successo qualche anno fa quindi però anche questa cioè diciamo che a Senna c'è questa cura per l'impatto per cercare di impattare sull'ambiente e di costruire cose che siano come dire sostenibili da tutti i punti di vista sia con il contributo come diceva Davide che semplicemente con l'utilizzo una cosa che volevo dire Davide poi magari se abbiamo tempo ne parliamo perché poi esco da questa caverna è questo oggetto qua che in realtà è un oggetto meccanico immagino che tra le tante persone che sono lì ci siano sicuramente magari appassionati di fisica ma anche appassionati di ingegneria magari ingegneria civile vedete che di fatto qua cioè si parla di ingegneria civile cioè in questa in questa struttura e questi qua sono dei sensori che servono per monitorare il movimento di questa caverna perché essendo come vi ha spiegato Davide il rivelatore fatto di differenti pezzi uno accanto all'altro se la caverna si muove si muovono i vari pezzi e quindi non si può più collegare il risultato di un pezzo interno con quello del pezzo esterno dei pezzi successivi quindi c'è un monitoraggio monitoraggio a livello dei micron della caverna che deve restare il più stabile possibile e questi sono i sensori che abbiamo visti tanti adesso io direi che io vado questo è il corridoio che vi ho mostrato prima in effetti io sono entrata da quel livello là quello là sopra che vedete dove ci sono delle foto dove c'è scritto tre metri e cinquanta e adesso esco da quest'altro corridoio quindi Davide ti lascio la linea e torno su nel caso c'è qualche domanda mi fai sapere sì penso che possiamo fare una sezione di domande adesso se volete fare qualche domanda di più sul sul cern sull'acceleratore non ho parlato tanto dell'acceleratore tra l'altro io insegno fisica di acceleratore quindi se avete qualche domanda su fisica di acceleratori o sull'esperimento o sulla fisica di particelle in generale dai video di preparazione dai video di preparazione c'è giunta a voce dei campi di X e dei bosoni di X che cosa sono e inoltre quali altre particelle elementari esistono allora all'inizio avevo parlato un po' della fisica di particelle abbiamo due gruppi di particelle i fermioni e i bosoni spero vi ricordate quello che avevo detto allora abbiamo i fermioni sulle particelle di materie che fa la materia o antimateria e poi abbiamo un altro gruppo di particelle che sono i bosoni io ho fatto un esempio dell'elettromagnetismo il bosone dell'elettromagnetismo è il fotone però ci sono altri tipi di interazioni e sono interazioni forze quindi la forza gravitazionale e poi altre due forze che sono importanti sono le quattro forze elementari che è la forza forte e la forza debole e poi abbiamo altri tipi di campi quindi altri tipi di interazioni non sono forze però esistono il bosone di X crea il campo di X che è responsabile per dare massa a tutte le altre particelle non è una forza però è un'interazione è un campo che esiste e quindi significa che se le particelle interagiscono fortemente con questo campo di X quindi interagiscono fortemente con X hanno più massa se interagiscono più debolmente con X hanno meno massa e nel caso per esempio del gluone che è il bosone della forza forte o del fotone che è il bosone della forza elettromagnetica non hanno massa che cosa significa non interagiscono con X non interagiscono con il campo di X chiaro o ti aiuta un po' e non ti sento devi mutare il microfono poi andrei a Silvia la prossima domanda però solo per un'idea generale la ringrazio ok benissimo adesso andrei a Silvia e poi ritorno da Metilde facciamo una una stavo leggendo un libro di Stephen Hawking e parla appunto delle particelle responsabili delle forze lui mi sembra le chiama particelle virtuali qual è la differenza la reale virtuale la virtuale significa che veramente sta attuando come una forza però la particella può esistere senza che sta facendo questa interazione quindi per esempio il fotone che è la luce lo puoi vedere come luce veramente ma lo puoi vedere come lo puoi osservare anche come interazione quindi quando fa veramente per esempio crea questo campo elettromagnetico che attrae o fa la repulsione di queste particelle te non vedi il fotone quindi è virtuale però sai che esiste perché l'hai osservato l'hai osservato la forza chiaro o non è chiaro quindi può assumere due 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 l'entità dipende dal dal fenomeno c'è una domanda adesso da Matilde no qualcuno vorrei fare una domanda allora Silvia l'ultima domanda forse avete fame è un'ora di pranzo io sono riemersa volevo chiedere invece per come è stato individuato il campo di X attraverso il suone di X ok quindi come avevo detto prima poi le collisioni con i protoni c'è il X è stato osservato con un canale specifico Z che quindi decade pure ad altre particelle e a fotoni quindi significa che c'è un meccanismo c'è il protone che produrrà X e poi X decade a fotoni o Z quindi quello che osservi sono i fotoni e in quel canale specifico erano eventi solamente con due fotoni molto molto semplici quindi ma molto molto evidenti con energie che vanno a coprire il bosone di X se non ci fosse il bosone di X vedevi solamente un background quindi vedi fai lo spettro della massa quindi lo spettro di energia e non vedi niente di differente nello spettro di X però come esiste X quindi quando fai la ricostruzione dello spettro di massa di fotone vedi un picco a X significa che ci sono eventi con quella con quell'energia che hanno prodotto X c'è un'energia scusa è il contrario quindi vedi un'energia di due fotoni che provengono da X chiaro non chiaro questo con un'immagine con la mia visione sì no perché poi ognuno alla fine come dire lo stesso concetto lo ridà in modo diverso considera che c'è l'equazione di Einstein di base l'energia uguale massa massa uguale energia ora quella che vedi di solito E uguale mc quadro è l'energia associata ad un corpo a riposo cioè l'energia dovuta solamente alla sua massa io in questo momento sono ferma e ho una certa energia dovuta alla mia massa grande energia perché ho grande massa ma insomma è un'energia quando mi muovo aggiungo a questa energia anche un'energia di movimento chiamiamola energia cinetica anche se poi la esprimiamo in maniera diversa quindi il totale di questa energia che viene messa in gioco durante le collisioni può a sua volta produrre della nuova massa può essere trasformata in massa che si muove anche e quindi siamo in grado attraverso ovviamente col sostegno della matematica di rigirare l'equazione tra energia e massa per calcolare la massa associata all'eventuale particella che è stata prodotta quindi fai l'inverno cioè praticamente estrai e risolvi l'equazione al posto che rispetta l'energia rispetto alla massa ora quello che diceva Davide se non c'è la produzione di una particella di fatto tu avrai un valore diciamo minimo o sempre uguale di questo che vai a calcolare di questa massa che vai a calcolare diciamo piatto nel momento in cui c'è la presenza di una particella in un determinato valore di energia tu vedi che il valore della massa corrispondente sale ok o meglio che ci sono tanti eventi come le chiamiamo noi che hanno un valore di massa specifico soltanto lì e questo fa quello che chiamiamo il picco di massa ora in realtà non è che li facciamo a calcolare questi talcoli abbiamo i computer i programmi che li fanno che ci danno gli histogrammi e tutto quanto però il principio di base alla fine è complicato non è forse la matematica che c'è dietro è una matematica molto specifica io ho dovuto fare il mio programma quindi sì sì no ma voglio dire la matematica che c'è dietro le equazioni le cose poi alla fine possono essere come dire un po' vanno studiate e basta vanno conosciute come non so se voi avete già fatto gli integrali se uno deve fare gli integrali prima li deve studiare poi li può fare la stessa cosa è un altro tipo di matematica però alla fine vi danno la possibilità di costruire appunto come diceva lui il proprio programma d'analisi dove si vede se c'è un accumulo di eventi cioè di collisioni che producono questa massa specifica e questo è quello che è successo per il bosone di Higgs e l'altra cosa che volevo aggiungere che in realtà e questa non è una cosa che dico io che in realtà proprio siccome il bosone di Higgs non si vede e Davide vi spiegava il bosone di Higgs è stato rivelato attraverso la produzione di un'altra particella che si chiama Z0 che a sua volta ha prodotto dei fotoni che in realtà quello che noi vediamo nei rivelatori sono le figlie o a volte le nipoti ed è al femminile delle particelle iniziali cioè noi le particelle iniziali hanno una vita talmente breve come il bosone di Higgs che non le possiamo neanche rivelare quello che riusciamo a rivelare nel rivelatore è solamente lo stadio finale quindi lo studio che noi facciamo che poi viene fatto con questi programmi software è di tornare indietro cioè di vedere se quello che abbiamo rivelato due fotoni corrisponde poi alla a una madre che era una Z che a sua volta corrisponde fotone X era quella era fotone sono due canali X fotone poi Z valetone sì ma tu quale dicevi prima dicevi X fotone ok tu dicevi X fotone quindi lui parlava semplicemente dei due fotoni che possono ritornare all'X e quindi di fatto i fotoni sono le figlie sono i nipoti perché c'è un scoop di top sì esatto lascia stare quindi diciamo così quando passate attraverso quest'altro processo che è quello invece in cui ci sono quattro muoni per esempio diciamo quattro muoni per dire di CMS che passano attraverso lo Z che poi tornano all'X di fatto fate vedete le nipoti che poi passano attraverso le figlie che passano attraverso quella che era la nonna diciamo così cioè si fa tutto al contrario perché perché noi queste particelle che vengono prodotte all'inizio noi non siamo neanche in grado sono talmente una vita talmente breve che non riusciamo neanche a rivelarle possiamo dedurne la presenza attraverso calcoli matematici e lì ci sostiene ovviamente la teoria che ci dà le formule per poterle calcolare non so se ho aggiunto qualcosa alla risposta sì penso di sì altre domande non siate timidi ci sono altre domande non ci sono domande allora io aggiungo solo una cosa forse velocemente qualora qualcuno fosse interessato a venire qui al CERN perché non deve essere un fisico può essere anche un ingegnere può essere a parte che i fisici se ne sono di tutti i tipi come vedete c'è il fisico di particelle ma c'è il fisico elettronico c'è il fisico teorico fisico di acceleratori io sono arrivata qui per i famosi due mesi e mezzo a fare un corso di fisica sugli acceleratori pensa quindi le mie origini sono quelle che tu fai adesso ma ci sono anche ingegneri avete penso che avete scoperto che ci sono ingegneri di tutti i tipi dall'ingegneria aereo spaziale che poi viene usata soprattutto per per la parte di criogenia a ingegneria elettronica a ingegneria civile perché le strutture che avete visto come vi ho detto sono gestite da ingegneri civili ma non è detto che uno debba venire qui e fare tutto il percorso accademico quindi vuol dire la preannale magistrale dottorato ci si può fermare anche prima e poter comunque come si dice postulare per poter lavorare qui ci si può addirittura semplicemente diplomare e fare un corso di specializzazione e diventare un buon tecnico che lavora qui perché poi alla fine i lavori che noi facciamo qua non sono lavori semplicemente di accademici ma abbiamo bisogno anche di un lavoro come avete visto di proprio di tecnica e lì noi fisici io parlo per me fisico ma anche gli ingegneri collaboriamo a stretto contatto con quelli che sono i tecnici che fanno il lavoro e io vi posso garantire una cosa questa è una cosa che tutte le persone che vengono al CERN poi notano è che visto che alla fine si lavora per il progetto non c'è gerarchia cioè quando si lavora fianco a fianco per la buona riuscita di un penso che Davide lo possa confermare la buona riuscita di un progetto non è che se c'è il capo gli si dà del lei cioè c'è un rispetto di persone di lavoratori per cui si lavora fianco a fianco e ciascuno ha il suo compito quello del fisico dell'ingegnere un po' più di responsabilità rispetto a quello del tecnico ma poi alla fine tira cavi il tecnico e tira cavi anche il fisico o cabla il tecnico e cabla anche il fisico quindi questa è una cosa dopodiché chi volesse fare leggi abbiamo bisogno anche abbiamo bisogno di avvocati abbiamo l'istituto l'ufficio legale abbiamo bisogno abbiamo il centro medico abbiamo bisogno di pompieri specializzati per questo tipo di realtà abbiamo bisogno di maestre d'asilo perché abbiamo anche l'asilo e l'asilo nido abbiamo bisogno anche di gente nella ristorazione perché abbiamo tre ristoranti agenzie di viaggio abbiamo un'agenzia di viaggio abbiamo un'agenzia di banca quindi insomma è una piccola città di circa ventimila persone dove tutti se hanno voglia possono trovare la propria collocazione non è semplicemente una qualcosa di fuori dal mondo fatto solo di scienziati pazzi come ci prendono invece no proprio no proprio no ed è divertente stare qua non lo so noi siamo persone felici tutti quelli che vedete sono sorridenti qua sicuramente normalmente lo studente medio quando va via chiede quando può tornare vero? tutti quanti dicono ma quando è che posso tornare? è sempre questa la domanda classica soffro un po' durante la tesi direi però dopo il concetto sì ma io penso non lo so anche io tante volte ho pensato soprattutto prima delle varie tesi ma chi me l'ha fatto fare avrei potuto fare qualche altra cosa sono cose che si dicono come anche non so adesso se ci sono ragazzi di quinto nella coda ecco ci sono ragazzi di quinto quindi chiaramente cioè non vedrete l'ora di fare i vostri esami prima passa meglio è ma poi sarete fieri di voi stessi di quello che avete ottenuto di come l'avete ottenuto quindi la fatica è normale forse è il sale che vi fa poi apprezzare di più lo sforzo che avete fatto ma questo succede in tutti i lavori penso non solo qui io ho pensato tante volte che me l'ho fatto fare tantissime volte quindi c'è qualcun altro che vuole non so anche curiosità la vita di un fisico vorrei ringraziarvi per averci fatto entrare a casa vostra io non vedo l'ora di arrivare sono riuscita a prenotare però non all'interno una visita ma alla parte nuova quella inaugurata quest'anno e sempre da voi il 6 marzo e partecipiamo anche alla CMS alla Masterclass al Dipartimento di Bari sì noi continueremo diciamo a sognare di venire là quando è che avete la Masterclass perché io sono moderatrice 26 febbraio che giorno è il 26 febbraio lunedì non lo so se me l'hanno assegnata perché normalmente ho da fare il pomeriggio dei lunedì quindi va bene eventualmente ci si incontrerà al Sense Gateway perché no abbiamo tanta gente di Bari qua abbiamo anche il vice capo dell'esperimento che è una persona di Bari quindi non so se stanno dicendo qualcosa ragazzi va bene allora vi salutiamo va bene dall'altra parte qualche domanda qualche cosa no non abbiamo altre domande però vi ringraziamo perché è stato veramente molto interessante e istruttivo per quanto mi riguarda spero che sia passato il fatto che dopo tanti anni sono ancora super entusiasta di quello che faccio scusate vabbè ma io faccio la fisica lo consiglio a tutti questo è ovvio cioè probabilmente Davide consiglia un'altra cosa ma insomma voglio dire è un percorso che è faticoso ma proprio perché è faticoso dà tante soddisfazioni quindi se qualcuno ci si vuole imbarcare per quanto mi riguarda io sono ben disposta a dare altre informazioni sapete come rintracciarci tanto durante la visita virtuale quindi speriamo di avere vinto ah sì scusateci domanda era invece questa volta riguardo i quark e invece questi com'è che sono stati identificati e come facciamo a sapere che siano particelle elementari e che magari non scopriamo una particella ancora più piccola puoi rispondere tu? non lo sappiamo no è i quark sono stati osservati vabbè in varie parti cioè no ma il primo il primo è stato la storia tutta quanta non me la ricordo alcune l'ultimo 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 una cosa particolare dei quark che non si possono osservare soli solamente si può sapere la loro struttura quindi però non si può osservarli solo c'è una proprietà fisica noi questa parte della fisica chiamiamo cromodinamica quantica e quindi quando dai energia c'è un mare di quark non reale diciamo così e quando hanno abbastanza energia loro possono creare un pair una coppia di quark anti quark e quindi diventano un altro ladrone quindi crea un altro ladrone diventano due e quindi non osservi mai il quark solo ah perché più energia perché di solito quando dai più energia lui esce fuori dalla sua struttura e lo puoi studiare però non con gli adroni perché quando dai più energia invece di separarlo lui diventano due adroni e quindi non riesci mai a vederli come sono come sono loro elementali come loro funzionano sono un po' differenti sì se posso fare un paragone con le persone è come dire tu hai una persona hai uno uno studente fuori sede che va in un appartamento e prende una camera insieme ad altri studenti se avesse più denaro probabilmente se ne starebbe da solo quindi come dice Davide si libererebbe il problema è che questo per i quark non funziona è tutta un'altra cosa quindi diciamo che quella che è appunto la cromiodinamica quantistica ha delle regole un po' diverse dagli altri settori della fisica però insomma riusciamo a dedurre la presenza dei quark e per il momento io al fatto come fate a sapere che sono fondamentali i quark così come facciamo a sapere che l'elettrone è fondamentale il mune è fondamentale diciamo che per il momento è quello che osserviamo potrebbe anche darsi d'altra parte se ci pensate un attimo una volta quello che chiamiamo atomo indivisibile in realtà è più che divisibile poi abbiamo trovato come dire una maniera di rivendere la cosa perché diciamo che l'atomo se lo dividiamo perdiamo l'informazione dell'elemento a cui appartiene e quindi è indivisibile in quanto elemento chimico ma in quanto struttura può essere ben diviso perché ci sono le particelle elementari dentro però nessuno ci garantisce che magari in studi successivi più energetici non si trovi qualcosa all'interno dell'elettrone eccetera anche se devo dire che la teoria ci conforta per il momento quindi ci vorrebbero una matematica diversa e tutto quanto quindi siamo abbastanza sicuri per il momento tutto torna nel dire che sono particelle fondamentali ma il fisico ha sempre questo approccio innanzitutto di sapere di sapere molto poco è molto socratico il fisico di sapere molto poco e nello stesso tempo di essere aperto a modificare le proprie convenzioni le proprie teorie in base a quella come dicevamo all'inizio l'osservazione sperimentale quella è quella che conta quella è quella che c'è il nostro lume che ci guida nelle risposte e nella conoscenza non so se abbiamo risposto sì no altra domanda sì sì scusate l'ultima domanda volevo chiedere in realtà si lega a questo c'è una motivazione fisica matematica non lo so per cui l'elettrone appunto come dicevate è particella elementare e quindi ha carica unitaria mentre il protone è composto da quark che hanno cariche frazionali cioè perché non c'è l'equivalente negli elettroni c'è una motivazione per questo sì perché quello che osserviamo è solamente o era più semplice spiegarlo con un diagramma di Feynman però non penso che lo hanno ancora visto però è basicamente che il fenomeno è di una particella fondamentale già quindi la sua interazione col con il suo bosone è di particelle elementare già il protone no il protone ha per esempio prima di tutto perché non so se voi sappiate perché che il nucleo dell'atomo è stabile c'è questa forza forte e quindi dentro l'atomo esiste un'altra forza che voi sappiate che come dentro il nucleo dell'atomo l'elio sono due protoni loro dovrebbero spingersi però loro si attraggono perché c'è giustamente quest'altra forza che li attrae perché sto dicendo questa forza anche succede dentro il protone fra i quark e quando noi facciamo i processi con i protoni chiaramente non si vede che il processo di una particella non elementare già l'elettrone tutti i processi che osserviamo è di una particella elementare questa è l'osservazione eppure la nostra teoria ci dice questo però come diceva Sonia la nostra teoria potrebbe essere modificata se osserviamo qualcosa di differente però le osservazioni che abbiamo è di una particella elementare sì nel senso io la vedo sempre molto dal punto di vista sperimentale cioè tu se la vogliamo semplifichiamola molto chiaramente avrebbe bisogno non di una cosa che non capite ma ci vorrebbe tempo per darvi gli strumenti per poter capire più in dettaglio quindi non è una questione di comprensione è solo una questione di tempo ok se però prendiamo l'approccio molto semplicistico che più energia date e più entrate all'interno della materia di fatto quello che osserviamo che a un certo punto io continuo a aumentare l'energia l'elettrone rimane quello che è invece il protone sono riuscita a vedere qualche altra struttura dentro ok ora lavorare con i quark è complicato perché proprio perché non riusciamo bene a a ingabbiarli perché si comportano in maniera diversa però chiaramente la matematica che c'è dietro è una matematica che giustifica quello che vediamo non so come dirvi cioè insomma se uno trova che due mele più due mele le conta fanno quattro mele e la teoria matematica che c'è dietro farà in modo che la somma di due più due faccia quattro insomma un po' così quindi e nel caso dell'elettrone che è una particella leggera molto leggera fosse composta di altre particelle queste particelle sarebbero più leggere quindi più facili di osservarle in natura che non le vediamo e per esempio lui parlava di carica il ragazzo che ha fatto la domanda perché devo avere particelle con carica no no possono essere frazionali esatto carica frazionaria diceva lui perché se io ho assegnato perché se il protone è una struttura che si presenta cioè i quark non si presentano liberi quello che si presenta a noi è il protone i quark per liberarli dobbiamo far qualcosa per cui di fatto interagiamo come un ambasciatore il protone che rappresenta quello che c'è dentro e allora se devo avere un nucleo un atomo di idrogeno che è stabile se c'è un elettrone e c'è un protone non possono che avere meno uno e più uno in modo tale che l'atomo di idrogeno sia neutro nel momento in cui hai un protone a cui hai assegnato più uno è ovvio che se trovi dentro tre oggetti devi potergli assegnare una carica frazionaria perché il totale di questa frazione deve fare deve fare più uno quindi comunque li metti poi dopo sappiamo quali sono i quark ti devono dare alla fine innanzitutto devono essere cariche frazionali in terzi perché sono tre e secondo devono combinarsi in maniera tale da poterti dare alla fine come risultato finale più uno quindi cioè è un po' la logica che c'è dietro nel costruire chiaramente questa è molto semplicistica però è per dare un po' l'idea di come dell'approccio di come ci si muove in queste cose non so se abbiamo risposto quantomeno un po' tolto la nebbia vedo tutti quanti freeze va bene così che dite andiamo a mangiare cioè voi andate a mangiare io no un'altra cosa da fare non so Davide io tu vai a pranzo no io no di nuovo grazie di tutto e arrivederci niente arrivederci va bene ci vediamo qua vediteci a trovare certo molte grazie grazie altrettanto buon pranzo buona giornata a tutti buona giornata grazie a tutti